No, non solo è un mattinè, è un mattinè la domenica del Super Bowl Diciamo che si hanno realmente deciso di scomunicarlo Senza, questa versione semplificata del famoso sistema inventato da questo Invece dovrebbe essere definita a triangolo O meno era, o meno è bravo quello, o meno bravo quell'altro E poi decidere in che ristorante è a dare Una vita assolutamente migliabile e appunto nel disco sommato Rimane una cosa piuttosto stimolante se l'uno chiama questo gioco Vado ancora la prima cosa Anche di un baller con Gerson 19 agli istanti, incluso con i giocatori sui 80 Che giocano due il palleggio di Strickland Che non sta l'essere a nessuno guardare Alla fine viene sfidato al tiro Non una grande esecuzione ma un grandissimo E pessima esecuzione, la vedete anche se il tiro era buono Poi ha veramente un grandissimo 6.974 Sia il round che invece di valire il giocatore Che è destinato ad avere meno spazio sotto a Hamgando Un certo tipo di strada Forse lo stavano anche trovando Adesso devono elettriciarsi alla situazione attuale Dell'essere da 3 di Puglia Lancero e di Tocco dentro Bene per Howard Bene, anche bene rispettiva Qui vedete la sua riflessione in zona anello E a questo punto Mimano da riflessare il movimento d'anno del gallo E due raggi Dio La chiave è sempre il gallo Anche nella squadra spiguitata dal sistema di Puglia Lancero Dio 64 la penetrazione di Tocco E' sempre terra per Howard E beh, onestamente questa è brutta E' orribile il pallacanestro Anche creante un po' di overload Se non volete chiamare triangolo per il legge E' la... David Bryant Allora Quello che è vicino è che il proprietario lo ritiene dal di là Bisogna poi per chi si dice lui da tre porte E si mette in ritmo streetcland Classico streetcland Dopo i ultimi secondi Di uno contro uno Poi uno contro due Uno contro tre Di Bryant Si leva tutte queste delle cose E' un'ina all'interno del semizio Invece E' un'ina molto fuori dal semizio E' un tiro libero Siede di spito di Adam Poi di vola Spiega Improvibile E' giuva il gol Sopro Fa in fatica Contro Il new star Vedremo Speramente Quella che Henry Ritiene la migliore Votata Lei già Non può usare i sentiti Con le altre per tutti Si era piaccato Da tre Che è che è rimasto Toccato Due volte Da Walton In In